Dissesto sì, dissesto no, è questa una delle tematiche più importanti nel dibattito politico ed amministrativo a Benevento. Dall'amministrazione comunale arrivano presunte volontà sulla dichiarazione di dissesto, ma ancora niente di certo. Sulla questione però interviene l'ex primo cittadino di Benevento ed oggi consigliere di opposizione Fausto Pepe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.